La Giunta regionale ha approvato una significativa variazione di bilancio nell'ambito del programma Garanzia Giovani volto al miglioramento della posizione del mercato del lavoro dei giovani a sostegno dell'occupazione in favore dei net. Un'azione molto attesa il commento dell'assessore regionale all'istruzione Leo che copre e fa bisogno stimato per la chiusura a saldo dei costi di formazione relativi alla prima fase del programma Garanzia Giovani. Con questo intervento, ha spiegato l'assessore, si potranno così continuare a sostenere le attività svolte e rendi contate dagli enti di formazione incluse quelle le cui autorizzazioni sono in corso di definizione istruttoria previa verifica di ammissibilità. La priorità di questi investimenti è quella di intervenire per il miglioramento della posizione dei giovani, ha aggiunto Leo, nel mercato del lavoro in particolare di quelli che non svolgono attività lavorative o non sono impegnati in percorso di studio e formazione. Obiettivo primario è quello di intercettare in particolare i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate cercando di ridurre il tasso di disoccupazione giovanile attraverso il finanziamento di azioni inerenti alla formazione professionale, gli aiuti all'occupazione, l'imprenditorialità e in generale le politiche attive di inserimento e reinserimento occupazionale.